E buongiorno! Buongiorno! Amici miei sono! Sa fuma una sigla? Si! Americano sono! Si, Americano! Grazie, grazie! E c'è una cosa, ma Odelia, dove è Odelia? Non c'è, non c'è, non c'è. Odelia! Odelia! Maria, vai a Odelia! Guarda chi c'è? Peppe Manzella, il confinato! Confinato? Brigante! Brigante diventai! Più tosto! La ragazza che fine fece? Che sorpresa! Adelianco c'è! Grazie! Grazie! Grazie, Adelianco c'è, il soldatino! Corri!